Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo è previsto per mercoledì 28 luglio. Prosegue l'ondata di caldo nordafricana sulla regione centro-meridionale, anzi si intensifica sulla regione meridionale. Al nord invece insistono ancora le correnti fresche atlantiche a seguito della perturbazione giunta nella giornata domenica. Pertanto in termini di fenomeni avremo dei rovesci sparsi, ma limitatamente al mattino sulle Alpi e regioni di nord-ovest, al pomeriggio e ancora qualche temporale pomeridiano sulle Alpi. Le temperature saranno in lieve rialzo al nord ma anche in rialzo al sud, ovvero erano già roventi. Massimo intorno a 25-29 gradi sulla regione di nord-ovest e Trivenito, 30-32 su Emilia Romagna, 32-34 su Toscana, Umbria e Marche e Sardegna. Punti di 37 nel Lazio, 34-37 gradi al sud e con punti di 38-40 su Puglia, Materano, Lucania, Calabria e Sicilia. Valore inferiore a 30 gradi sulle regioni che non abbiamo citato e lungo le coste.